Buonasera. 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 Mi ha scosso, mi ha fatto pormi delle domande. E volevo cominciare oggi con qualcosa di personale. E questo è stato un momento che veramente mi ha fatto riflettere profondamente. Era una giornata come un'altra, stavo scendendo da casa mia, un po' in mezzo al bosco, andando verso il tempio per guidare una sezione di meditazione, e ho avuto un insolito incontro con un insetto. Non ho mai capito ancora quale, il fatto sta che è entrato fra gli occhiali e gli occhi, e facendo un riassunto sono finito con un shock anafilatico. Ho perso coscienza, grazie mille c'era vicino, sono riuscito a comunicare con un'amica medico che è riuscita ad aiutarmi in quel momento, poi è arrivata l'ambulanza, tutto il resto. E quando ho ripreso coscienza, stavo bene. Però è stato dopo, quando parlavo con l'amica medico e con altri medici con cui ho parlato, che mi hanno detto, ma tu hai capito cosa ti è successo. Io non avevo capito del tutto. E lì ho sentito un forte senso di aver ricevuto, diciamo così, una benedizione. Qualcosa che secondo me è estremamente importante, di cui avevo parlato diverse volte, ma quella volta ho avuto un'esperienza diretta, che dè la preziosità di sperimentare il quanto ogni giorno della nostra vita sia valioso e sia prezioso. Perché c'è qualcosa che è normale, che è naturale, anche se facciamo un po' finta di niente, che è il fatto che siamo nati, siamo qui, e inevitabilmente, prima o poi, moriremo. Siamo d'accordo, no? E non c'è nulla di male, non c'è nulla di sbagliato, non c'è niente di male in morire. Il vero problema è vivere male. E molto spesso noi passiamo la nostra vita presi con tantissime piccole cose che cerchiamo di risolvere nella nostra vita di tutti i giorni. piccoli problemi da risolvere, questo mi piace, quello non mi piace. Passiamo la vita un po' come diceva un maestro dell'undicesimo secolo in Tibet, che si chiamava Atisha, che diceva di giorno siamo distratti, di notte dormiamo. E la vita passa. Ok? È un fatto. Siamo distratti su tante cose. siamo distratti ancora nei tempi in cui viviamo ancora di più da una quantità di stimoli sensoriali spaventosa che portano tanti effetti nella nostra vita, fra cui più ansia, eccetera, eccetera. Ma il fatto sta che spesso non ci chiediamo dove sto andando, cosa voglio fare, dove voglio andare, cosa voglio diventare. e una volta parlavo con un amico anni fa e gli ho chiesto ma a te ti piace la meditazione? E mi disse sì sì, mi piace tantissimo. E quando medito al mattino sto bene per tutto il giorno. Ho detto che bello, quindi mediti tutti i giorni, no? E lui mi disse sono da tre mesi che non medito. E io mi sono chiesto ma perché ci sono delle cose che noi sappiamo che ci fanno bene e comunque noi non li facciamo? E riflettendo su questo, così come ci sono quelle cose che noi sappiamo che ci fanno male e comunque le continuiamo a fare. Però riflettendo sulla prima domanda perché ci sono delle cose che sappiamo che ci fanno bene e alla fine non riusciamo a farli, non li facciamo. Mi sono trovato un giorno dinanzi a una frase di una poesia di un maestro che si chiamava Giawazayan Ghiazzo che era il sesto Dalai Lama. Ricordiamoci che il sesto Dalai Lama diversamente di solito i Lama in Tibete e così via lui ha rifiutato totalmente avere qualunque potere politico in quanto Dalai Lama di qua di là e anche non voleva assolutamente seguire la vita monastica. era conosciuto per tutte le sue fidanzate in giro ed è rimasto nella storia come un grande poeta d'amore. In due delle sue poesie lui scrisse una frase che mi colpì e mi aiutò molto a cercare una risposta a trovare una risposta più che altro e lui disse in una poesia verso una donna in specifico in un'altra poesia verso le donne in generale e lui disse se io desiderassi l'illuminazione tanto quanto desidero le donne sarei già illuminato. No? E fatto sta che aveva ragione perché la realtà è che noi non facciamo quello che noi non vogliamo e una delle forze più potente che esiste nella nostra vita è il desiderio. Magari qualcuno avrà sentito dire che nel buddismo il desiderio è qualcosa che va eliminato. Nì. E questa è una parola che mi piace tanto che c'è solo in italiano almeno. Fatto sta che il desiderio dipende da cosa intendiamo per desiderio. Proiettare la nostra felicità su qualcosa che non riesce veramente a sostenerla è una fregatura e va evitato. Però nella vita non si fa nulla se non c'è desiderio. Di solito si usa nel contesto più virtuoso la parola aspirazione però in fondo è una forma di desiderio è cosa voglio. Perché quando c'è passione verso qualcosa non andiamo a misurare gli sforzi e dire no è difficile no facciamo tutto il possibile. Una volta stavo parlando di questo proprio e ho fatto la domanda quando siamo innamorati di qualcuno di qualcosa c'è chi si innamora di una persona c'è chi si innamora di un progetto c'è chi si innamora di se stesso anche quello può succedere ma quando siamo innamorati quanto spesso pensiamo nell'oggetto del nostro innamoramento e fece questa domanda c'era una ragazza che era lì nella sala ed era estremamente innamorata in quel periodo e lei disse una volta che non finisce mai ed è vero quando c'è passione quando c'è desiderio verso qualcosa la nostra mente è fortemente direzionata ai nostri pensieri le nostre azioni in qualunque momento giorno e notte andiamo verso quello e io sono convinto che una delle cose più importanti di cui tutti noi abbiamo bisogno è di aver passione è di innamorarci di qualcosa di bello di virtuoso di positivo nella nostra vita e quindi quando ho avuto quella mia esperienza di svegliarmi e vedere la faccia spaventata spaventata dell'Elkana questa amica medico holandese che mi sono più spaventato e la faccia sua che mi vedeva che mi teneva abbracciato da dietro tenendo il polso che non lo sentiva più mi guardò io mi sono chiesto dopo ma io cosa voglio ma veramente che cosa sto facendo dove sto andando ma io cosa voglio nella mia vita più di tutto ed è una domanda che tutti ce la dobbiamo fare e non so per quale ragione la volta che ho trovato la risposta più chiara che è quella che cerco ancora di seguire e che volevo un po' condividere con voi perché è importante chiederci che cosa voglio nella vita non prendere questo per scontato non lasciare la vita che si svolge un giorno dopo l'altro e tanto si vive e prima o poi finisce no dobbiamo darci una direzione e io ho dato una direzione importante per me che ancora oggi seguo proprio la prima volta che sono venuto a Verbania non so perché quel momento ero in macchina a quell'epoca vivevo in India era intorno nel 99 e c'era guidava Francesco con Gabriella era di notte pioveva e Francesco disse ti faccio fare il lungo lago io stavo lì pensando ma il lungo lago non si vede niente piove pure e sono stanco ho fatto un lungo viaggio per dire è stato uno dei momenti più importanti per me e non è che è accaduto che ne so nelle montagne del Tibet in mezzo al monastero di Tashilopo un luogo mistico qualcosa non è successo a lungo lago di Verbania mentre pioveva e pensavo a tutt'altro non è che era un momento così particolare di ispirazione però fatto sta che mentre ero lì ho avuto questo pensiero che mi ha colpito fortemente profondamente problemi esistono ed esistiranno sempre e mi sono detto che bello che bello perché anche qual è la regola finisce un problema ne comincia un altro e cosa succede quando c'è l'eccezione finisce un problema e non comincia un altro lo creiamo noi questo è quello che succede di solito e ho detto che bello perché fino a quel giorno io mi ero accorto in quel momento mi sono accorto in quel momento che fino a quel giorno io vivevo la vita cercando di creare una realtà idealizzata intorno a me io volevo risolvere i problemi con voglio ancora però volevo proiettavo che la mia felicità nel fatto che il giorno che questo andrà a posto e quell'altro andrà a posto e quell'altro sarà così andrà tutto bene e cosa succede quando arriva quel giorno c'è qualcos'altro che non va e quindi da questo mi sono detto ma io veramente cosa voglio io voglio essere in armonia in pace voglio star bene con me stesso e con il mondo che mi circonda con le persone con cui mi trovo con le situazioni in cui sono indipendentemente di dove sono con chi sono o in quale situazione mi trovo perché se il mio stato di pace di felicità di benessere deve dipendere dal contesto in cui mi trovo sono fregato perché problemi ci sono e ci saranno sempre io sono sicuro di tutti noi che siamo oggi qui c'è qualcuno che non ha dei problemi e se dobbiamo fare la competizione di chi ha più problemi riusciamo a competere bene secondo me ci ne abbiamo tutti però il punto non è questo perché man mano che ci sono i problemi vengono delle soluzioni la vita passa e una cosa comincia poi finisce poi c'è un'altra e quando abbiamo visto il tempo passa però noi continuiamo e qui io mi pongo una domanda che condivido anche pongo anche a voi condivido anche con voi questa domanda ci sono due forze che ci guidano nella nostra vita due forze motrici nella nostra vita il passato in cui noi nel momento presente andiamo ad agire a reagire a secondo di ciò che è accaduto o vicino o lontano e l'altra forza motrice importante il solito non tanto riconosciuta è il futuro è dove io vivo il presente non come un semplice risultato del passato ma come la causa del futuro ed è qui che ci chiediamo io chi voglio essere ed è il problema più grande che io trovo e mi ricordo una volta che ero in un monastero in Tibet ero andato lì per studiare e a un certo punto mi hanno chiesto di andare a dare una lezione in questo monastero che si chiama Agnimo Gyalci e io ho chiesto ma una lezione da me alla fine ho detto sì sì perché tu sei discepolo di Lama Gancen e quindi ho detto sono andato lì e mentre ero con loro mi sono accorto che il vero problema anche loro lì è sapere veramente cosa vogliamo e credere che noi ce la possiamo fare e avere fiducia in noi stessi però chiedersi dove voglio andare e non rimanere semplicemente nella nostra semplice quotidianità con le cose eccetera non basta risolvere i problemi non basta avere dei piaceri va bene i problemi esistono per essere risolti i piaceri esistono per essere goduti sono d'accordo niente di male però ci poniamo la domanda oltre questo dove voglio andare chi voglio essere io vi invito a riflettere su questo ricordiamoci che se io voglio vivere in armonia con me stesso e con gli altri io devo imparare a farlo oggi quando noi ci siamo davanti a un'altra persona con cui abbiamo un rapporto può essere familiare di coppia di lavoro io mi chiedo che tipo di rapporto voglio avere con te voglio avere un rapporto basato sull'amore sulla fiducia sul rispetto sulla gratitudine sulla consapevolezza o voglio avere un rapporto basato sulla sfiducia sul conflitto sulla rabbia sull'arroganza e così via se io vi chiedessi che tipo di rapporto volete avere con le persone che conoscete immagino che volete il primo adesso immaginiamo una persona qualunque pensate voi a qualcuno io ho qualcuno in mente un bel giorno va tutto bene con la persona a un certo punto succede che l'altra persona per qualunque ragione del mondo sia agisce verso di noi con aggressività ci parla in un modo scortese ci parla con aggressività eccetera qual è il nostro modo di agire verso l'altro quando l'altro agisce verso di noi con aggressività lo stesso però è proprio lì che io mi devo chiedere ma che tipo di rapporto voglio avere con te un rapporto pacifico rispettoso amorevole paziente eccetera un rapporto conflittuoso e così via io voglio avere un rapporto di rispetto di amore perciò io voglio relazionarmi con te in questo modo per costruire questo rapporto nel futuro come voglio avere la mia salute nel futuro voglio avere un corpo sano devo vivere sano oggi perciò ricordiamoci che nel momento presente esiste un potere enorme ogni azione che compiamo ha un potere enorme di trasformare modellare e costruire la nostra vita noi abbiamo questa capacità però la realtà si trova in ogni giorno il potere reale si trova in ogni azione in ogni cosa che pensiamo in ogni parola che diciamo e inevitabilmente volendo o no noi siamo sempre costantemente in trasformazione perciò io vi invito a riflettere e chiedervi in che direzione volete trasformarvi e ricordiamoci che le possibilità il potere anche per stare in pace con noi e con gli altri e conseguentemente essere un tassellino per la pace nella società in cui viviamo perché come la Magan Cerenpo ci ricordava spesso la pace interiore è il fondamento più solido per la pace nel mondo e se vogliamo la pace commessa da noi con noi stessi e con quelli con cui viviamo grazie mille grazie grazie a tutti